Bene, questo è Roma Nord ragazzi, poi dicono, 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 certo il centro è bello che è, come dire, pulito, ma qui siamo a Roma Nord, eh, ragazzi qui non è pulito per niente, non so, guardate, guardate voi, guardate, guardate che roba, non è possibile, qui non c'è nessuno, eh, e gli alberi sono spaccati, i rami sono per terra, non ho parole. Non ho parole, guardate che roba, cioè da termini, a qua c'è uno shock pazzesco, perché qui sembra di stare in un'altra zona, non sembra neanche Roma, no, 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 guardate, guardate, guardate qua, guardate qua, io sono quasi arrivata, però, però è dura, è difficilissimo girare in macchina, molto difficile, veramente molto difficile, quindi, caro Alemanno, devi pulir qua, eh, mica puoi pulire solo il centro, te, eh, devi pulire anche qui, questa zona, eh, non è pulita per niente, eh, vado, ciao ragazzi, a più tardi, a più tardi.